Questa mattina la direzione aziendale dell'Eneficio Fratelli Cerruti e le organizzazioni sindacali si sono incontrati presso la sede dell'azienda. Un'azienda ha illustrato i piani per i prossimi anni che beneficiano della congiuntura in ripresa del settore tessile. La partecipazione a Milano Unica, gli scorsi 1 e 2 febbraio, ha dimostrato interesse e apprezzamento per le nuove collezioni da parte dei principali clienti, contribuendo a consolidare il rilancio sempre più internazionale del brand. Nei prossimi giorni sarà operativa anche la prima batteria dei nuovi telai, frutto di un investimento di 30 nuove macchine che rinnoveranno totalmente il reparto tessitura del sito produttivo di Biella. Di concerto al piano di investimenti necessari per il rinnovamento della struttura produttiva e il rafforzamento della posizione commerciale, l'azienda intraprende un processo di evoluzione della sua struttura organizzativa, rendendola più snella e più focalizzata ed incrementando efficienza e competitività. In questo processo di riorganizzazione sono coinvolti 30 addetti che avranno accesso agli ammortizzatori sociali previsti.